Ciao Giuseppe, buongiorno, sono Francesco Colucci, 17FR, come tu mi conosci, sono venuto da te un'idea fa e sono rimasto così emozionato e imbarordito. Quelle due o tre ore che siamo stati insieme è stato bellissimo, il tuo allenamento è grandissimo, bei soggetti, pulito, pulitissimo. E niente, ho preso da te questi bianchi eccessivi, più qualche bianco dominante, io ho i soggetti canarini mosaici, ho già diviso i maschi, le femmine e tutto per la questione che la muta è a me terminata, io uso centrali aereos, da oggi parte il giorno di riposo, ho 121 giorni di riposo e ho 13 ore e 8 minuti di luce, e niente Giuseppe, come tu vedi il mio piccolo allevamento, tutto piastrellato, sopra ho qualche femmina di arlecchino portoghese che mi ha fatto come baglia quest'anno, quest'anno ho fatto 41-42 soggetti, diciamo 40 perché tutti i miei soggetti mi sono mostri muta, sto selezionando il mio allenamento, come tu dici i tuoi consigli per me fanno benissimo, mi sono trovato bene, e solo Giuseppe come io ti dici, io uso Unifid, Unifid sono due anni, mi trovo bene, anche per questione di pulizia, di spazio, di questione di lavoro, io ti aspetto alla mia attività per fare quella manifestazione come noi abbiamo organizzato per i bambini dell'Unifid, io metto a disposizione la mia sala senza soli, senza niente, faccio beneficenza come non è beneficenza per questi bambini qua, e speriamo che quest'anno ti farò vedere dei soggetti, l'anno prossimo dei soggetti dei suoi recessivi, perché voglio fare questo tipo di recessivo, questo tipo di penarini perché mi piacciono tanto, come i mosaici, i maschi, le femmine, e ora ti faccio vedere un po' il mio allenamento. Grazie. 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 Grazie.